Quest'anno a livello regionale, ma soprattutto la città di Pegero, si è giudicata a un evento ciclistico importante, che è di livello internazionale, che è la Coppi Bartali. La tappa a Pegero sarà il 19 di marzo, ci saranno 30 squadre che provengono a livello internazionale, saranno centinaia, sia i ciclisti, ma soprattutto tutto lo staff che accompagna i ciclisti, anche quelli che possono essere i parenti, gli appassionati, e si stimano oltre 600 persone che verranno nella città di Pegero per il 19 di marzo. Era un'iniziativa che fino allo scorso anno era stata fatta in Emilia Romagna, quest'anno appunto, grazie anche al contributo delle marche, io ho presentato un emendamento che è stato approvato in occasione dell'ultimo bilancio, che ha previsto 30 mila euro a favore della città di Pegero, appunto per raggiudicarsi questo evento, risorse che comunque non sono i 30 mila euro a garantire questo evento, ma una buona parte di queste risorse vengono messe a disposizione direttamente anche dal comune di Pegero, un evento internazionale che ci auguriamo possa essere fatto, oltre a quest'anno, anche i prossimi anni nel nostro territorio. Un'occasione per valorizzare innanzitutto tutto il lavoro fatto nel corso degli anni, cioè legato alla Bicipolitana, che ha fatto sì che i cittadini pesaresi abbiano preso l'abitudine di utilizzare la bicicletta negli spostamenti, ma questo progetto della Bicipolitana, che ha aumentato anche le persone che amano la bicicletta dal punto di vista sportivo, quindi che fanno ciclismo, che fanno cicloturismo, avere iniziative come queste è sicuramente molto importante.